Il presidente della regione toscana Enrico Rossi si è recato in visita in Lunigiana per un sopralluogo che oltre a due nuove scuole ha toccato due cantieri per la riduzione del rischio idraulico dopo l'alluvione del 2011. A Bagni di Podenzana è stato da poco aperto il primo lotto di lavori da 2 milioni e 200 mila euro per realizzare un argine in terra lungo 240 metri e un muro in cemento armato di 170 metri alto 5 alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra. Obiettivo mettere in sicurezza l'abitato entro aprile 2020. Noi abbiamo speso in tutto qualcosa come 100 milioni. Nell'arco di tempo che va dal 2012 ad oggi senza nessun potere speciale abbiamo fatto appalti. La Lunigiana ha ponti nuovi, ha nuovi argini, ha nuove scuole. I fiumi sono già stati puliti, risagomati, verranno continuamente ripuliti e risagomati e quindi penso che si possa dire che è un esempio buono su come si deve intervenire quando c'è un evento disastroso come quello di un'alluvione. Il sopralluogo del presidente della regione ha poi toccato Aulla dove entro settembre dovrà essere completato il muro d'argine sinistro del torrente Taverone di 470 metri e la scogliera di 520 metri alla confluenza tra il Magra e l'Aulella a protezione dell'abitato. Costo dei lavori un milione e mezzo di euro. Grazie a tutti.